Prefetto, l'arresto del cybercriminale Carmelo Miano dal mio punto di vista mette in evidenza due fattori che anche in Italia i criminali informatici possono essere arrestati, però dall'altra parte mette in evidenza una fragilità cyber di alcuni sistemi informatici di strutture chiave strategiche. Come rafforzare queste difese cyber nei settori chiave del nostro Paese? Diciamo subito che questa esperienza che abbiamo vissuto l'ultimo, anche questa ci ha visto in qualche modo come agenzia contribuire, dare un contributo sostanziale. Guardi, non l'ho detto nella relazione perché altrimenti sarebbe stata una relazione troppo lunga e il tempo concesso non lo avrebbe consentito, però diciamo che noi abbiamo affinato, io me ne sono occupato fin da subito perché il mio mestiere è quello di portare un'esperienza anche pregressa, io sono stato capo del legislativo, del ministero importante e quindi un'esperienza anche legislativa e giudica. Una delle prime cose che ho voluto affrontare venendo in agenzie è stato quello di stabilire, attraverso anche una norma, come si può disciplinare il rapporto tra attività di resilienza e attività investigativa, quando siamo in presenza soprattutto di impatti di questo genere, cioè dell'intromissione di un attaccante, di un APT, in un sistema delicato e critico e nevralgico come quello della giustizia. Allora, in questo caso naturalmente non si può operare alla scieca, come dire, senza avere presente che ci sono anche le esigenze degli investigatori, quindi che devono acquisire gli elementi di prova e devono poter risalire tutta la catena, le tracce digitali che sono state lasciate dall'attaccante per poterlo effettivamente, per potergli mettere le mani addosso, cioè nel senso di poterlo arrestare e fermare. Ecco, tutto questo è stato fatto in combinazione con la procura nazionale e le procure distrattuali. Io ho avuto molto piacere che Nicola Gratelli, il procuratore distrattuale di Napoli, abbia una conferenza stampa post arresto, abbia riconosciuto questo contributo che è stato dato dall'agenzia. È stato fatto un eccellente lavoro di squadra e questo lo si farà in tutte le occasioni nelle quali ci sarà questa necessità di contemperare e di mettere a sistema le due esigenze, le due istanze, quella di ripristinare i servizi nel più breve tempo possibile, perché non possono soffrire un lungo periodo di compromissione, con quella di rintracciare e mettere al sicuro chi ha attaccato questa cosa. Certo, quel evento dimostra che effettivamente anche reti complesse, estese, come quella della giustizia, possono essere esposte all'intrusione di un attaccante. Ma come rafforzarle? Intanto abbiamo fatto su tutte le amministrazioni pubbliche che sono state da noi assistite nell'ambito degli interventi del PN un risk assessment. Abbiamo immediatamente fatto capire a tutte le amministrazioni che la prima cosa da fare sarebbe stata quella di misurare il grado di resilienza e resistenza e robustezza della propria superficie digitale, perché gli interventi che si sarebbero dovuti fare e che si stanno facendo per rafforzare e robustire i loro sistemi non possono essere interventi fatti senza una conoscenza preventiva delle fragilità e delle vulnerabilità come le ha chiamate lei, della loro rete, dei loro sistemi e dei loro servizi. Quindi operare gli investimenti significa anche spenderli bene questi soldi per la sicurezza informatica, cioè non spenderli secondo una logica un pochino a pioggia, possiamo dirla così, o comunque non mirata. Ecco, questa è la prima risposta che mi sento di darle. Poi, ripeto, ritorniamo alle citazioni filmiche, lei ricorderà quella pellicola di qualche anno fa in cui si dimostrava che anche un ragazzo, un hacker bravo, riusciva a entrare nel sistema di sicurezza del pentagono. Quindi, insomma, World Games.